ciao vittorio bentornato tra di noi ciao cristian ciao a tutti come stai tutto bene 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 tutto bene siamo sempre presi ma ci siamo ci siamo allora vittorio è uno dei nostri trainer che lavora nel reparto consulenze come ho già detto in tutti gli altri video credo se ci siamo divisi in reparti corsi dal vivo consulenze e vendita vittorio opera sulla consulenza a milano e tra l'altro è un anno praticamente che lavori assieme a noi sì sì esatto ormai abbiamo fatto un anno è già passato un anno allora oggi parliamo di gestire le emozioni con una donna perché esatto tema e che suggerimenti puoi dare allora ho portato questo questo topic perché ovviamente le consulenze sono sempre uno spunto uno spunto su cui poter fare appunto queste queste chiacchierate perché poi fondamentalmente diciamo i problemi che escono fuori le difficoltà dei vari studenti possono essere assolutamente molto comuni e quindi mi è capitata questa consulenza con questo ragazzo che emotivamente è una persona molto molto sensibile e quindi deve fare un lavoro su quello che la sua emotività proprio per tutelarsi ma allo stesso tempo anche crescere da un punto di vista come come persona e quindi mi è venuta in mente questa questa consapevolezza noi fondamentalmente abbiamo un bagaglio interiore questo bagaglio interiore è formato da tutte le esperienze che abbiamo vissuto e quindi il nostro atteggiamento è dettato proprio da questo bagaglio che noi ci portiamo dietro perché se noi abbiamo vissuto con l'esperienza x e abbiamo magari reagito in quella maniera nel momento in cui magari si ripresenterà quell'evento quell'evento lo vivremo in maniera condizionata rispetto a quello che è successo nel passato perché magari il nostro sistema di credenze si è formato si è formato in quella maniera e noi stessi abbiamo la visione della vita in funzione di quello che magari il nostro filtro un po come se avessimo delle lenti colorate di fronte ai nostri occhi se noi abbiamo le lenti colore blu noi vivremo la vita vedendola di blu con tutte le sfumature del blu se abbiamo le lenti nere vivremo la vita con quel colore lì quindi la nostra visione è condizionata da da quello che il nostro atteggiamento da quello che è la nostra il nostro progresso le nostre esperienze assolutamente si guarda io dico sempre che noi siamo il risultato delle nostre esperienze e quindi gioco forza il passato ci condiziona e ci plasma rendendoci le persone che siamo oggi perché ogni momento ogni situazione e ogni frangente può essere di insegnamento può essere bene nel male chiaramente e può essere appunto anche un motivo di cambiamento proprio interiore così come divisione di opinione eccetera eccetera assolutamente e ci sono degli step che io ho notato che si manifestano in maniera assolutamente sistematica nel momento in cui magari una persona non si è ancora esposta a quello che è appunto il miglioramento a quello che è un mettersi in gioco e progredire il primo step nel momento in cui magari viviamo un'esperienza che non è emotivamente gestibile da noi la prima cosa che noi facciamo è cerchiamo di rimuoverla oppure reprimerla quindi cerchiamo di metterla un po sotto al tappeto perché in qualche modo magari non non riusciamo a gestirla perché magari troppo forte per noi e quindi la rimuoviamo in maniera inconsapevole oppure la reprimiamo in maniera consapevole perché quella cosa lì non la vogliamo vedere se accumuliamo troppo però quel tipo di di attitudine perché magari non so mi viene in mente questa quest'esempio abbiamo difficoltà per esempio a dire di no a dire di no alle persone se noi accumuliamo quell'attitudine prima o poi esploderemo perché carichiamo 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 a livello emotivo quindi io ti dico di sì ma in realtà ti voglio dire di no ti dico di nuovo sì ma voglio dire di no e prima o poi poi esplodo perché voglio dire c'è un disequilibrio dentro di te che poi ti porta appunto a esplodere e quindi la seconda fase dopo appunto la rimozione piuttosto che la repressione è l'espressione e mi viene in mente magari una dinamica dove la persona ha bisogno di sfogarsi no e quindi c'è quella situazione dove la persona x reagisce in maniera assolutamente troppo forte rispetto magari a un evento molto molto insignificante no perché è successa quella cosa perché la persona ha represso e ha rimosso troppo quegli eventi però poi alla fine esplodano ma non è tanto tanto sano diciamo avere questo questo tipo di attitudine non solo se ne pensi essi si assolutamente le emozioni devono anche essere tra vite liberate non possono essere represse perché altrimenti prima o dopo troverai altrimenti una una strada alternativa per e poi ancora c'è un'ultima fase che è anche abbastanza comune la fuga cioè noi cerchiamo in qualche modo di distogliere l'attenzione e nella nel contesto attuale a livello di epoca in cui ci troviamo è assolutamente molto ma molto facile abbiamo i social scrolliamo tutto il giorno instagram piuttosto che facebook piuttosto che vediamo netflix tutto il giorno è assolutamente molto facile distrarre la nostra mente con qualcosa di di futile poi per carità va benissimo guardarsi il film piuttosto che insomma utilizzare poi social e quant'altro però se utilizziamo quella cosa è come come un senso di fuga dalle nostre emozioni quello non è sano non è non è salutare proprio perché comunque stiamo evitando di metterci di fronte a quello che sono magari le nostre paure i nostri blocchi qualcosa su cui noi effettivamente dovremmo lavorare su noi stessi assolutamente sì perfetto vittorio hai dato tanti concetti e niente qualcosa da raggiungere o chiudiamo degli elementi assolutamente molto veloce che ci mettono nella condizione di uscire da questa situazione è sicuramente fare autoanalisi noi non siamo le nostre emozioni quindi cercare di capire cosa c'è dentro di noi ci può anche essere d'aiuto magari chiedere un parere infatti ovviamente le coaching servono proprio ad aprire un'opportunità verso la persona stessa per appunto migliorare e quindi sistemare quello che magari dentro di noi non va piuttosto che verbalizzare quello che c'è dentro di noi ragazzi non abbiamo paura cerchiamo di non avere paura nell'esprimere le nostre emozioni quindi farle uscire farle fluire questi sicuramente sono sono tre elementi molto molto veloci che mi viene da consigliare a chi a chi ci segue grande i consigli molto pratici e immediatamente proprio operativi grazie vittorio alla prossima ciao 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 cristiano ciao a tutti